Grazie Presidente, ringrazio la consigliera Celli per questa mozione sulla quale siamo allineati in quanto la pressione che l'attuale maggioranza sta facendo per arrivare a ridurre, anzi a zerare il numero di impianti con concessioni scadute è massima e quindi siamo d'accordo nell'attivare anche tutti gli strumenti che sono previsti dal regolamento che è stato ormai approvato da più di un anno e a tal riguardo sono stato aggiornato dal nuovo dirigente, l'architetto Ziantoni che finalmente ha preso posto all'interno della struttura che effettivamente stava soffrendo un po' di lentezza e sta predisponendo anche una procedura standard per quanto riguarda il partenariato pubblico privato che è un altro importante canale attraverso il quale l'amministrazione potrà recepire progetti e metterli poi a bando per aggiungere a nuove concessioni. In conclusione quindi esprimo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla mozione. Grazie.